Fogli fuori fuori fuori! Ma va a fauculo, va! hai finito di fortunare... Via! Se sto dritto, sì. Se stai dritto, sì. Mi fa malissimo. Se sto dritto, mi fa male male. Cazzo, Romano, che cazzo? Vuoi vedere la dottoressa? Sei sposato con i miei figli. Cardello è un persino ombrello, quindi controllo la prosa. No, vabbè, ascolta, se riesci a partire la doccia di andare da solo in pronto soccorso o devi farti fare una radiografia? Provo. Se no, ti chiami l'ambulanza. No, no. Dopo non possiamo. Il risultato è che siamo a 35 a 6. 15 minuti giocando di là. 15 minuti per arrivare a una media. Ma non possiamo fare più. Dobbiamo alzare il ritmo. Dobbiamo fare il ritmo. Se devo dare 100 punti, sono 100 punti. Non giochiricchiare là, fare il cazzone là. No, no, no. Fuori una mancanza di rispetto. Molto. Sì. Sì. Sì.